Consigliere Testa, l'idea di istituire un premio intitolato a Carlo Paci ha trovato subito il favore della cittadinanza intera, di tutti gli schieramenti politici. Esattamente, oggi 28 marzo ricorrono i cinque anni della scomparsa di Carlo Paci, una scomparsa prematura, triste per la città, per la famiglia ovviamente. Io ho voluto oggi mettere attorno a un tavolo i quattro sindaci che si sono succeduti a Carlo Paci, quindi Alessandrini, D'Alfonso, Masci e Mascia, per condividere con loro l'istituzione di questo premio. La prima edizione sarà il 28 marzo del prossimo anno e tutto questo nasce perché Carlo Paci, oltre a essere stato un galantuomo, una persona per bene, una persona fortemente innamorata della sua città, sia prima, durante e anche dopo la sua carica da sindaco, ma è stato un sindaco lungimirante, uno che ha tracciato un solco importante per lo sviluppo della nostra città, tante sono state le battaglie vinte dall'acquisto dell'aurum allo sviluppo del polo universitario, dalle prime pedonalizzazioni. È stato quello che ha creduto subito in Pescara come centro naturale dell'area metropolitana allargata, tema peraltro molto in voga e di moda e di grande attualità in questo periodo. Cosa le resta del ricordo di suo marito, non a livello familiare, ma a livello di sindaco di Pescara, che è stato il sindaco anche della sua famiglia? Tante cose, tanti avvenimenti, una volta non l'hanno ricordato, ma lui è stato quello che ha comprato, diciamo anche per poco l'area di risulta, e mi ricordo che lo accompagna il giorno prima a Roma e stava malissimo perché aveva un dolore ai denti terribili. Ho detto va bene, torniamo a casa. No, non posso, domani mattina ho l'appuntamento e devo finire da fare questo perché la mia città è da topo tempo che aspetta. Purtroppo lui aveva fatto anche il progetto per il teatro, non è stato realizzato, speriamo che un domani, perché sapeva che Pescara ne aveva veramente bisogno. E non sarebbe stato un piccolo teatro, ma un pochino dove si poteva fare cultura, di musica, di tante cose. Quello è stato il suo più grande rammarico, ma purtroppo nove anni non si può fare tutto. Però l'area di risulta, me lo ricordo come un bellissimo avvenimento perché lui ci teneva troppo e passava, qualsiasi cosa l'avrebbe voluto fare, insomma.